non funziona proprio questa struttura fu creata appositamente per il prescelto dalla spada che esorcizza il male ne sono sicura però non capisco come posso fare per attivarla ci sarà un modo per riuscire a entrare lì dentro avevo detto che oggi non desideravo la scorta guarda che non mi importa se è un ordine del re io non ho bisogno della protezione di nessuno intesi torna al castello e riferiscilo pure a mio padre smettila di seguirmi grazie a tutti grazie a tutti